Salve a tutti! Un po' di consigli letterari. Siamo a inizio maggio, in realtà no, siamo a fine aprile, però voi lo vedrete a inizio maggio. Allora, libri in blu, blu mare, blu voglia d'estate, blu voglia di cieli senza nuvole, e di libri non tutti così leggeri. Quindi iniziamo da Temel, Antichi Misteri, che ripercorre fra storia e leggenda la nostra isola, mi permetto di dire nostra, rivolgendomi agli altri sardi, ma non è assolutamente un libro da tenere entro confini, anche perché chi l'ha scritto non è sardo. E' un libro che tratta di leggende, di misteri che ruotano attorno a una terra millenaria. E' molto carina quello che scritto dietro e ritengo che sia condiviso da me, ma anche proprio lo spirito che anima il libro. Mito, storia, leggenda, realtà o fantasia? E' importante distinguere? Probabilmente no. Ciò che importa è avventurarsi in un magnifico viaggio nel tempo, in una sardegna da riscoprire nelle sue tradizioni e credenze popolari, proprio come se si fosse ancora attorno al focolare domestico, ad ascoltare i racconti degli anziani, o davanti a un nuovo videogioco, da Mael, Antichi Misteri. Allora, l'edizione è del 2022 ed è un libro frutto del lavoro del mondo incantato della scrittura, che, come me, quindi voglio proprio far capire che c'è collaborazione e non concorrenza, tengono corsi di scrittura creativa a gruppi. Io tengo sia a gruppi che a singoli, in quest'ultimo tempo voi sarete accorti più a singoli, infatti pubblicizzo poco, proprio per una scelta lavorativa di conciliare un po' tutto, essendo molto impegnata nella creazione di un festival. Quindi anche loro ottengono corsi di scrittura creativa e quindi si ripropongono di far scrivere e poi pubblicare le persone che sono coinvolte nel corso. I corsi di scrittura creativa sono tutti uguali? No, sono diversi, ognuno ha attuato, ha messo in gioco il proprio metodo, le proprie strategie, attraverso la propria competenza professionale e le proprie esperienze di vita. Quindi io direi che io tutt'oggi faccio corsi di scrittura creativa, sì certo come insegnante da moltissimi anni, ma ogni anno uno come allieva, perché solo ponendomi nella posizione dell'allieva posso scoprire prima di tutto dei punti deboli di me e diventare anche una migliore insegnante. Passiamo, mando alle ciance, che io sono una da ciance, passiamo al segreto della speziale di HarperCollins. Io direi che torno al 2020, vediamo un po'. 2021. La speziale. Allora, colei che fa armeggia con spezie e erbe. Due sono le regole. C'è un veleno e può essere somministrato da una donna, ma non verso un'altra donna. E c'è un registro. Il registro contiene sia il nome dell'assassina che della vittima. Una ragazzia di 12 anni combinerà un pasticcio. E da qua inizia la trama che ci conduce fino ai nostri giorni. Perché ci sarà qualcuno che si metterà alle tracce di misteriose morti avvenute in una Londra lontana. Un libro interessantissimo del mulino, Violenza alle donne, una prospettiva medievale. A cura di anni esposto Franco Franceschi e Gabriella Viccini. Siamo anche questo intorno al 2020. Vediamo un attimo. No, questo è il 2018. Il libro è molto interessante perché leggendolo noterete alcune cose che sono riconducibili al Medioevo. Ma molte altre sono riconducibili alla prima metà del Novecento in Italia. Si parla moltissimo di violenza psicologica, non solo di violenza fisica. Le donne devono essere custodite, sono considerate inferiori all'uomo. Qui è più esplicito rispetto a quanto avvenne nel Novecento. Sono considerate delle cose che appartengono al Pater Familias e non possono prendere nessuna decisione in merito. Ora, io non ricordo l'anno esatto perché non è il mio campo, ma la revisione della Pater Familias non è così tarda. Così allontana in Italia perché prima il Pater Familias disponeva anche sulla moglie. Adesso sono entrambi i genitori a gestire la famiglia. Quindi donne che non hanno diritto a gestire i patrimoni, che di conseguenza vengono gestite come se facessero parte di un patrimonio, che vengono date in sposa i matrimoni combinati per arricchire il patrimonio o costrette al convento per non impoverire il patrimonio. Cioè praticamente sono beni, corpi che servono alla riproduzione o alla non riproduzione nel caso del convento e su cui si fanno alleanze o guerre. C'è anche l'elemento della prostituzione per quelle che si trovano povere, sole e senza nessuno che se ne occupa. Altrimenti le donne devono essere custodite sia perché non sono in grado di gestirsi da sole per un deficit mentale e fisico, sia perché comunque quanto hanno di più caro è di mene e di conseguenza se il giocattolo si rovina poi non può essere più venduto a caro prezzo. Un libro molto vasto, ci sono anche degli usi, ci si interroga sugli usi linguistici. Adesso sto guardando quello che ho sottolineato. I modi in cui le donne reagivano alla violenza e apro una pagina e vedo l'avvelenamento. Non che avvelenassero solo le donne, però era un tipo di reazione violenta e di omicidio e più facile da esercitare per una donna piuttosto che l'uso di una spada. E abbiamo appena parlato di veleni. Sempre sul blu, questo penso che sia 2018, Almarina, un libro bellissimo. 2019, è un Audi, Valeria Parrella, un libro breve ma che riprenderà tantissimo. È una professoressa di 50 anni che si reca su un'isola dove i ragazzi non scenderanno mai a mare perché sono dei giovani che hanno commesso dei reati, quindi una sorta di carcere minorile. Finché un giorno entra Almarina con questi occhi indagatori a sconvolgere la vita di questa donna, anche lei in bilico e in qualche modo anche lei prigioniera all'interno di una scuola prigione. E come si si interroga sulla vita di questi ragazzi, sperando che riescano a reintegrarsi, a superare quel mare di violenza, di criminalità nella quale sono stati introdotti ancora così giovani. Ponte alle grazie, Marta Oriolis, dolce introduzione al caos. È un libro di indagine psicologica del 2020, una coppia decide di avere un bambino, lei resta incinta. Ora, non mi addentro troppo, è un libro che va oltre gli stereotipi, quello che ci si aspetta di dire si sofferma sull'indagine psicologica, sui dubbi, sui moti dell'anima e su quello che realmente avviene non nella proiezione patriarcale e maschile della gravidanza, ma nella realtà dei fatti o quantomeno in molte realtà dei fatti, perché la gravidanza è un'esperienza a sé, anche una stessa donna può avere più gravidanze e non vivere tutte nello stesso modo. È un libro consigliato con un'indagine psicologica condotta con molta eleganza. E poi un libro della Logos, edizione del 2023, bellissimo. È Anna Paolini, che è sempre una garanzia, illustrazioni meravigliose per raccontarci la storia di una donna che morì di malattia poco prima di ricevere il Nobel e quindi siccome non può essere consegnato postumo, non lo ricevette mai. Il titolo è Rietta e le stelle. Ora vi faccio vedere di chi parliamo, di Rietta Svanleavit. Eccola qui. Siamo all'inizio del Novecento. Rietta ha una passione per la matematica e una salute cagionevole. Nell'osservatorio si occupa della catalogazione delle stelle variabili, ossia quelle che variano di luminosità a seconda della distanza. In realtà scoprirà che esistono altre galassie, oltre alla Dialatea. Una scoperta sensazionale che cambia completamente anche la nostra concezione. Non siamo l'unica galassia, quindi sicuramente un libro che merita, un libro che rende onore a una donna che non dimenticheremo. In periodi in cui si riteneva che le donne non dovessero occuparsi di questioni scientifiche perché non erano in grado. Quindi un modello interessante per i ragazzi e le ragazze di come siano realmente le donne. E con questo credo di essere stata chiacchierona, ma abbastanza breve. Quindi vi auguro un buon mese di maggio. Non è escluso che la rubrica abbia un revival nel corso dello stesso mese perché ho tantissimi libri da consigliarvi. Buone letture. Vi stavo dicendo un abbraccio con cui saluto di solito quando scrivo e poi ho detto un abbraccio. Ma sì, un abbraccio. Grazie. Grazie.